L'Associazione Culturale Project San Gabriele ha presentato la tredicesima edizione degli incontri di studio New Media Nuove Generazioni, riflessione sui giovani, la scuola, la famiglia, internet e tv, con particolare riferimento ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, sempre più presenti anche in ambito locale con la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e delle piattaforme social. Questa è la tredicesima edizione di questo convegno e devo dire con orgoglio che siamo stati un po' precursori di questi argomenti e non solo di questo. La tredicesima edizione di questo convegno nel quale interverranno nomi prestigiosi nel mondo della comunicazione e della cultura, parlo di Mario Rusconi che è il presidente dell'Associazione Nazione dei Presidi, di Filippo Lucci, presidente del Corecom Italia, il professor Gabriele Francesco e Moreno Fieni, il presidente del BIM che ha ritenuto di noi meritevoli dell'attenzione del BIM. L'obiettivo dell'iniziativa è educare le nuove generazioni al corretto utilizzo dei media, sviluppando un approccio critico alla fruizione delle informazioni veicolate da mezzi tradizionali e new media. È importante innanzitutto instaurare un bel dialogo e un rapporto appunto tra i figli e i genitori, perché il dialogo diventa sempre il ponte elevatoio, se vogliamo così definirlo, aperto però e quindi sempre disponibile in qualsiasi caso e per ogni difficoltà. È importante anche che i genitori un pochino di tecnologia la possano mangiare, ma come? Anche condividendo appunto con i propri figli, i quali sono veramente bravi, sono dei grandi tecnici che possono adoperare tali strumenti, però a volte manca di senso critico. Cerchiamo noi grandi di insegnare loro questo senso critico. E poi, ultima cosa, riservatezza in primis. Pubblicare le cose giuste, pubblicare le cose importanti, ma non violare mai la propria riservatezza di se stessi e anche in famiglia.